Siamo molto felici oggi di essere qui con la vincitrice di questo importantissimo concorso Io non sclero. È stata l'esperienza a portare questo tipo di idee perché io ho affrontato quel tipo di problemi e ho pensato che mancava una cosa del genere. Perché sono veramente convinta che l'invalidità, la malattia sia una cosa che non è così terribile se uno riesce a conviverci e a raggiungere comunque i suoi obiettivi. Se una persona sta male può comunque avere una vita piena, può comunque avere tutto nella vita e quindi perché non creare supporti che possono aiutare per raggiungere questo obiettivo. C'è stato nella tua vita un momento in cui guardavi alla malattia come qualcosa che gli altri non dovevano sapere? Ho sempre pensato che se devi costruire qualcosa con qualcuno quella persona deve sapere quello che è la tua realtà e questa cosa fa parte di me. La sclerosi multipla è una malattia autoimmone, saniclobuli bianchi. Non potrebbe esserci niente di più intimo del sangue per me. Grazie.